a ma io sono un salame io ho parecchie macchine ho sette soldi nella mia collezione C'ho la 918, la Posca dell'Egittino, scusate che mi è apportata l'oca, c'ho la Posca dell'Egittino, la 918, un blu che è insolito, la Helio Nord è... Ah, la G5 Sandro. Fai la dedica? Come no? Per buona bene. Sì. Ah, ecco. Davide? Grazie mille. Grazie. Bene. Grazie, è stato un piacere. Ciao ragazzo. Grazie mille. Grazie mille. Alla prossima 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 Alla prossima